Supponete che adesso ti dicessi, adesso tirate fuori tutti quanti lo smartphone e usiamo una certa app per fare domande anonime o discutere in maniera anonima. Potremmo farlo utilizzando addirittura bluetooth, se sono talmente vicini potremmo farlo col bluetooth. E quindi fare qualcosa totalmente in locale. Provateci. Non c'è neanche l'app. Perché se sistematicamente, deliberatamente fatto app, Whatsapp è l'esempio che conosciamo tutti in Italia, però in generale delle app che pur potrebbero fare in locale, che tra l'altro consuma di meno. Visto che adesso gli aspetti ambientali cominciano ad essere rilevanti per il digitale, sono tutte quante app che adesso tirassi fuori Whatsapp e facessimo un gruppo di queste persone su Whatsapp, i dati non sarebbero qui. Vedete, andrebbero tutti quanti da qualche altra parte e poi tornerebbero qui. E questa è una scelta, non tecnica. È una scelta, noi vogliamo essere gli intermediari. Quindi i dati devono andare da un intermediario, anche se è più lento, anche se è più costoso, anche se ha un impatto ambientale, perché così l'intermediario sa.